ciao belle allora oggi è un video vabbè per me è emozionante perché domani è il nostro anniversario di matrimonio ci siamo scusate ecco qua sempre la tosse che incombe sopra i miei video il 6 dicembre del lontano 2008 già sei anni sei anni ok va bene allora quindi ovviamente oggi cosa potevo proporvi se non una versione di un trucco sposa non è quello che avevo io è comunque molto leggero è uno smokey molto molto leggero vi faccio vedere l'occhio oggi a cagliari sta impazzendo qua c'è il sole non so se riuscite a vedere poi magari zoom da vicino riesco a mettermi nella posizione giusta perché sentoci il sole ecco qua comunque un consiglio allora se dovete truccarvi da sole guardate il più possibile tutorial sul makeup appunto sposa se invece decidete di di farvi truccare da una truccatrice informatevi prima su appunto se sembrava o meno e ricordatevi bene di farvi mettere primer primer viso e primer occhi e primer labbra e tutto deve essere poi comunque tamponato con ciprie perché così il trucco rimane di più e poi ci sono degli spray in commercio che una volta finito il trucco appunto ne conoscerete ce ne sono tantissimi quindi io ho usato il cover mark perché deve esserci una pelle deve essere perfetta poi un'altra cosa che vi consiglio è ovviamente chiedere al fotografo se vuole i brillantini o meno perché molti fotografi non vogliono perché dicono che non escono bene le foto non so ma adesso per quale motivo non mi ricordo sinceramente direi una bugia comunque io non ho esagerato con i brillantini anche perché non insomma se non è che me lo chiedono quindi questo l'ho fatto come se fosse per me anche se ho già dato allora quindi trucco sposa poi dovevo dire un'altra cosa comunque innanzitutto mi faccio vedere come inizio allora faccio la base con il classic della cateis tutta la base sulla palpebra mobile e fissa dovevo dire una cosa non mi ricordo non mi ricordo forse non era importante poi vedete tamponate tamponate io prima ho sparso il prodotto e poi tamponate perché così rimane proprio più a lungo diciamo ecco qua ora prendo questa palettina di or che mi è stata regalata non so mai come definirli è il figlio di mio marito con la fidanzata per un compleanno questa smokey della di or ecco qua brava Eleonora bravo Ale avete scelto benissimo allora e vado a prendere con un pennello da sfumatura questo grigio non glitterato eh questo opaco le prendo sempre poco per volta di prodotto e vado qua sulla piega dell'occhio aspettate che zoom un po' così ecco non spaventatevi nella mia facciuna ecco qua sembra poco per volta così siete in grado di aggiungere prodotto perché toglierlo poi è un casotto quindi faccio un leggero smokey vado anche un pochino sopra la piega proprio sopra l'osso scusate mi devo guardare da davanti per vedere se è simmetrico ecco poi un'altra cosa se decidete di appunto come dicevo prima truccarvi da sole fate molte 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 prove e soprattutto fatevi le foto così confrontate perché che altro oggi abbiamo tutti o una macchina insomma che li faccia che faccia le foto abbastanza bene se non lo avete la potete chiedere a un'amica o quant'altro così potete valutare se quel trucco si è bene con voi col vostro abito poi un'altra cosa ovviamente gusto personale il trucco non va mai abbinato secondo me ripeto non va mai abbinato il colore dell'abito a prescindere che sia bianco il mio era color oro dopo vi farò vedere alcune fatte ovviamente non dell'album quello grande perché pesa 20 kg l'album io ho fatto tre album quello classico il fotolibro poi ne ho fatto uno piccino da portare in giro per far vedere e poi adesso qua ho alcune foto insomma sfuse diciamo così ecco qua faccio una piccola V per allungare l'occhio e dicevo io mi sono sposata all'americana allora uno perché io non ho i sacramenti ho solo il sacramento del battesimo poi magari spiegherò il perché e il mio marito essendo divorziato non si poteva sposare in chiesa perché io avrei potuto anche volendo volendo eh avrei potuto prendere gli altri sacramenti chiesto la comunione e cresima però lui avendo un figlio comunque non poteva fare l'annullamento tramite la sacra rota ciao figlio che fai sarebbe stato brutto pure per Alessandro perché insomma poi ci ha fatto pure l'attestimone lui e la fidanzata Eleonora invece a me hanno fatto l'attestimone mio fratello e mia sorella ciao Titi ciao Gianni ora vado a prendere questo rosa sempre della Cateis Pussy Cut oddio aspettate che non lo vedo eccolo lui e poi vi do un altro consiglio per quanto riguarda le labbra sì le labbra per quanto riguarda le labbra scusate un attimo se non mi dimentico lo mischio anche con questo che è il Kitten sempre della Cateis perché se no il Pussy Cut è troppo forte è troppo rosa e non ci piace stavo dicendo per quanto riguarda le mani secondo me la cosa più classica è ovviamente la French o comunque dei disegni bianchi insomma stare sul bianco o non so secondo me c'è la costella i colori sulle unghie forti a me non piace beh poi però così sono ognuno è libero di fare quello che vuole d'altronde il giorno sarà il vostro e sarà irripetibile ok ho fatto questo Smuky leggerissimo però non sono contenta e quindi vado a ribattere un pochino col Kitten qua perché vedo ancora abbastanza ecco qua o un po' meglio allora poi proseguiamo vado a prendere quindi con la palette Dior abbiamo finito con la palette Pteis abbiamo concluso no bugia non abbiamo concluso perché vado a prendere il Panther il colore più scuro il nero diciamo con un pennellino e lo metto a mo' di eyeliner matita e potete usare anche la matita Make Up For Ever tutto waterproof mi raccomando o comunque sempre i primer eccetera eccetera ricordatevi e prendo il prodotto e lo vado a stendere perché secondo me l'eyeliner sembra un giudizio personale ribadisco sì dipende dalla persona dalla personalità della sposa del matrimone però secondo me è troppo netto troppo d'impatto preferisco un po' lo sfumato così dell'ombra questa è la mia versione ovviamente questo è solo un consiglio ecco qua vedete ok con la paletta abbiamo finito ora vado a prendere una matita Benecos in questo caso prendo questa perché pur essendo minerale non andrebbe bene insomma per il giorno del matrimonio perché minerale va via subito la metto all'interno dell'occhio per far sembrare l'occhio più grande ed ha più luce anche quindi sicuramente è una matita home make up forever di questo di questo colore che non è bianco è un color crema ecco qua vedete come lo sguardo si è sbrano gli occhi a me piace tanto poi l'importante è che non ti ascolto a nessuno ho sbagliato su una cosa ho dato ad ascoltare una persona e non ho fatto una cosa però vabbè è uscito bene ecco comunque dicevo quindi io non mi sono sposata scusate posso non come dalla quindi io mi sono sposata direttamente vabbè perché di Cagliari o zona conoscerà il posto io mi sono sposata a Ginepri all'americana quindi mi sono sposata il 9 ottobre 2008 in comune sono là con mio marito mio fratello e Alessandro il figlio di mio marito mascara make up mac sono andata con un vestito sì elegante però eravamo soli nel senso che io desideravo sposarmi in stile beautiful ho visto tanti di quei matrimoni di Brooke che oddio mio ho detto no da grande mi vorrò sposare pure io così e quindi mi sono sposata direttamente là mi ha rifatto ovviamente la cerimonia ho preso sapete che si può scegliere la persona se non lo sapete ve lo dico ora non sapevo neanche io la mia insegnante di diritto che è anche un avvocato e ha preso il permesso per celebrare il matrimonio al di fuori anche se il matrimonio era comunque già celebrato però insomma a fare le finte non si fa quindi abbiamo rifatto lì tutto ci ha riletto tutte le cose con le promesse eccetera eccetera carino e quindi ci siamo sposati direttamente lì mi è piaciuto molto poi essendoci oggi molti divorziati e divorziate quindi è una cosa carina da fare sposarsi in spiaggia tra l'altro giorno che mi si è sposata io se non fosse stato per la pelliccia ecco ovviamente finta l'abito l'ha fatto mia madre sono fatti i miei genitori non so se vabbè l'avessi già detto comunque c'era un sole che veramente spaccava le pietre infatti se non fosse per i vestiti degli invitati sembra estate e la sera prima il venerdì diluiava infatti ero nel panico più totale poi ho detto vabbè chi se ne comunque beh scusate scrutiato allora quindi poi vado a prendere dove sei questo matitone della Kiko e vado a fare qua il punto luce tra l'altro poi a me il matrimonio è piaciuto molto perché era poi siccome io e mio marito siamo cegliaci tutti e due ci siamo trovati quindi per noi è stato fatto tutta questa per noi anche per il mio padre che mi ha trasmessa perché è una cosa generica e adesso uso un altro illuminante per aspettate se lo vedo io l'ho usato prima ecco questo è la Kiko questo Radiantouch questo che è bellissimo lo prelevo col dito e lo vado a mettere qua e ovviamente vi consiglio sempre di portarvi una pochette la date alla vostra testimone alla vostra migliore amica eccetera eccetera per andare a ritoccare perché comunque anche se è tutto waterproof o comunque con primer eccetera eccetera a me quando capitano le spose che piangono mi vengono i nervi perché Dio mio ora ma in te non si può questo illuminante lo vado a mettere anche qua nell'arcata nell'arcata nell'arco di cupido insomma nel labbro superiore va qua nel mento e poi per far sembrare le labbra più carnose vado a prendere sono cadute le vitrine vado a prendere questa terra che è poco poco scura prendo un pennello così piatto prendo poco poco prodotto e lo metto qua sfumandolo poi è leggerissimo sfumato ovviamente un po' di contouring io l'ho fatto proprio leggero comunque si può fare anche più pesante io quando le sono sposata ne ero 31 ecco qua mettendo lo scuro qua fa uscire un po' il labbro capito invece mettendo qua il chiaro le fa insomma vi ripolpate le labbra senza spendere un cavolo poi quindi il trucco occhie è terminato aspettate che provo a sommare un altro po' di più ok no sto che fai prendi iniziative ok ora passo alle labbra ci sono due scuole di pensiero osu o no facciamo una vese in mezzo ho deciso di adoperare no non l'ho ancora deciso scusate sulle labbra non l'ho ancora deciso li ho lasciati ultimo per questo allora io direi se siete delle tipe a cui piace colore sulle labbra e siete soliti portarlo sì se no un nude o comunque colori abbastanza leggeri io ora farò un mix tra un nude e poi aggiungerò un po' un po' di colore insomma sapete no che si si può mischiare tutto si può mischiare tutto infatti non so eccolo allora la matita quella della confezione chicco questa è natalizia aspettate è andato via il sole e zoom un po' così vedete se è meglio allora contorno ai labbra scusatemi metto bene appena sopra poi ovviamente prima di sposarvi una settimana prima dieci giorni fatevi una pulizia del viso dall'estetista ok ora lo riempio riempio le labbra anche con la matita non lo che direi di fio non lo che non lo che